Ciao ragazzi, per chi non lo conosceste, io sono i Challenger, una parte perché c'è anche Viola. Comunque quello che ha detto lui è che oggi andremo a giocare a Homo Goose. Il suo nome è Bjorni, l'inglese è l'Italia e io l'inglese, ma io parlo l'inglese e l'italiano, ma l'italiano non è molto molto, e lei parla solo l'italiano. Italia e Albania, è anche un po' in inglese, comunque oggi come avevo detto era Natale, qui no, Natale è proprio Natale già passato, comunque perché se lo chiedesse anche oggi è 3, no non è 30 oggi, no non è 30. Vabbè, comunque questa sera ovviamente non sarà, non ci potrà ovviamente avere Natale, non è Natale ma un giorno speciale per gli albanesi, per gli albanesi. E come, come il Natale, quindi facciamo quello che chiamiamo Natale. Oggi ovviamente è il nostro primo video e per questo primo video andremo a fare con Bjorni. Che parla in inglese. Ora dobbiamo giocare a Homo Goose. Ora dobbiamo giocare a Homo Goose. Come on guys, wow. Ok, vediamo. Ora andiamo a girare. Ok, se vedete, due secondi. Due secondi? Ok, qua. Sta giocando al momento. No, non è affonato. Si vede, si vede. Affonato il certo, ti faccio qua. Si vuole? Si. Voglio scrivere il secondo. Ecco, si. Scusa la fuori. Ovviamente noi parleremo sia in italiano sia in albanese, quindi non ci fate parlare. I'm playing, guys. Guys, I'm playing the game. Oh, I'm imposter. I'm imposter, guys. Guys, I'm imposter. I swear, I'm not lying. Oh, I killed someone, guys. Oh, they could to emergency meeting quickly. I killed someone, guys. My name is Bjorn. Il suo nome Bjorn, mi ha detto che ha ben ucciso. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. No. Cosa sta scripendo? Ha detto hi. Del polistro. Ok. Ok. Tu vai. Ma, ma che gioco è ancora? Imposter. Imposter. Ha, 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 ha. Oh, no. I'm... Guys, they think it's all me. No. No. I'm kidding. They think it's all me, guys. No. Ok. Comunque, non attrezzatevi perché ci proveremo con un... Guys, guys. Guys, I'm going to do my tasks. E' un fantasma. There are no more tasks. The tasks are all finished. Oh, it's a fantasma. I'm checking the cameras, guys. So subscribe to our channel, click the back button. See you next time. What we'll do at the end when we finish, but it's our YouTube channel, not my YouTube channel. He's going to do my channel. Ha detto che è il mio, il canale, e non il suo. Anzi, non è il mio. Saluta, Viola! Insieme siamo i Challenger. E di nostri due, anche di nostro padre. Ovviamente non mi sono dimenticata di dirvi che iscrivetevi per altre informazioni, ma anche se volete seguirci su YouTube, mi raccomando, non scrivete il nostro... E come i Challenger, Mags, in dovali! Ovviamente ora parleremo in albanese, ma io anche potrò, anche, 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 anche... Anche parlare in italiano. Subscribe to your channel, click the back button. See you next time, bye!